In questo video vi voglio portare dietro le quinte dei miei trading system e vi voglio dimostrare quanto hanno guadagnato i sistemi con il Serenity Index più basso nel 2022 e nel 2023. Quindi diciamo super out of sample da una vita. Il Serenity Index è quel valore che ho creato, ho strutturato da zero, secondo tutto un processo molto sofisticato che ci dice, ci dà un feedback. Più basso il Serenity Index è e più tranquilli possiamo mettere il sistema live. Quindi il Serenity Index ha questo obiettivo ambizioso di mettervi live, di andare a fare soldi e di smettere di guardare il sistema che fa soldi in simulato e di trasformare questi soldi che non esistono in soldi veri. Quindi ho preso alcuni dei sistemi con il Serenity Index più basso e li andiamo a vedere insieme. Ad esempio partiamo proprio dal primo sistema che ho inserito nel mio archivio, l'SP500 Arrow. È un sistema creato con il Composer Arrow, è un sistema di cui parlo da una vita, che conoscete, ho fatto mille short, tantissimi studenti ce l'hanno, è veramente vecchio come il cucco e ha un Serenity Index di 7.10, quindi molto basso effettivamente. Ecco qua le performance, questa è l'equity line giusto per mostrarvela. Le performance nel 2022 sono più 13.000 dollari, quindi con l'SP500 che crollava ha fatto più 13.000 dollari e nel 2021 ha fatto più, nel 2023, quindi quest'anno, ha fatto più 21.000 dollari. È appunto Out of Sample da una vita, ha fatto anche anni negativi, perché questa non è la macchina per fare soldi. È un trading system resistente con un Serenity Index molto, molto basso. Il prossimo sistema che voglio farvi vedere è Oro Cashmere, quindi andiamolo a trovare. Eccolo qua, posizione 77. Oro Cashmere, Serenity Index 3.78, quindi molto, molto basso, molto tranquillo. Ecco le performance del trading system Oro Cashmere, che vedete essere Out of Sample da una vita. Se no, questi drawdown non li vedremmo. Ha vissuto dei periodi difficili, ma negli ultimi tempi si è molto, molto stabilizzato. Tanto che nel 2023 ha fatto più 14.000 dollari in 5 mesi. Oppure Caffè Cot, chiamato, perché io faccio dei nomi tutti strani, Frank Cot. Queste sono le performance. E andiamolo a cercare. È molto facile da trovare perché è 0. Ha il Serenity Index più basso. Eccolo qua, KC Cot. Serenity Index 0. Quindi vai live, tranquillo. Non con la certezza che guadagni, perché la certezza del futuro non ce l'abbiamo mai, ma tranquillo, è robusto. E in effetti l'anno scorso ha fatto più 17.000 dollari, nel 2023 ha fatto più 17.000 dollari. Quindi in 5 mesi ha fatto più 17.000 dollari. Oppure Linux. Linux Hakuna Matata, che conoscete anche molto bene, perché ripeto, sono sistemi di cui parlo da una vita. ha un Serenity Index, andiamolo a cercare, ma. Hakuna Matata, eccolo qua. Linux Hakuna Matata ha un Serenity Index di 10.59, quindi molto basso. Quindi dice, hai validato bene, ok, puoi andare live sereno. Se lo vuoi mettere live, non ti preoccupare, puoi metterlo live. Chiaramente deve essere coerente col portafoglio, ma stai tranquillo. Ed effettivamente nel 2022 ha fatto più 12.000 dollari, nel 2023 più 8.000 dollari. Questi numeri sarebbero insimulato finché non li metti live. Quindi forse conviene andare live. Che dici? Oppure prendiamone un altro. Ti faccio vedere, dai, l'ultimo. Cotone. Cotone perché è molto, molto strano, è molto difficile. Non è detto che tu debba tradare Cotone Live, ma anche i sistemi sul cotone hanno, fammi vedere, ecco una matata, sì, hanno la possibilità di avere un Serenity Index basso. Cotone Hakuna Matata. 8.78, nonostante il cotone sia un future difficile, eccetera. Performance nel 2022 più 20.000 dollari. Performance nel 2023 meno 700 dollari. Questa è TV verità. Queste sono le cose come stanno. Però forse avere 20.000 dollari in cassa non è male. Queste sono un po' di... Vediamo questo, dai. Vediamo questo che è cacao scrocchiarello, quindi che fa parte del percorso scrocchiarello. 2021 più 4.000 dollari, 2022 in un anno ha fatto meno 1.200 dollari, poco però negativo. 2023 in 5 mesi ha fatto più 1.150 dollari. Quindi con un Serenity Index da trovare. Oh mamma mia, non c'è. Eccolo qua. Cacao, trading scrocchiarello per principianti. Fanno parte del percorso attuale, del master, tutti i link sono in descrizione. 9.54 di Serenity Index. Ti ho mostrato oro, SP500 che sono i più classici come future, che è facile immaginarci live anche con il micro, mini future, eccetera. E ti faccio vedere, ti ho fatto vedere anche sistemi un po' più difficili sulle commodity più complicate. Questo è il risultato di un Serenity Index basso. Se vali di bene, col Serenity Index basso puoi andare live con la tranquillità nel cuore perché hai più probabilità di fare soldi. Per approfondire Serenity Index, il metodo Shiva, eccetera, link in descrizione o numero verde 800 475 300. Ciao.